Siamo pronti per una nuova puntata di Cronache e Commenti. Il Consiglio regionale visto dalle nostre telecamere. Nell'ultimo Consiglio, appunto nell'ultima seduta del Parlamento Toscano di fine luglio molti gli argomenti dibattuti fra cui si è parlato delle concessioni balneari. Tema di stretta attualità nazionale che la Regione tocca andando a modificare la legge ma ne parleremo ovviamente più concretamente anche con le parole dei vari consiglieri dei gruppi politici ma parleremo anche di altro e dunque iniziamo con i titoli di oggi. Approvata la nuova legge sulle concessioni balneari a larga maggioranza interessa 36 comuni toscani. Approvato anche l'assestamento di bilancio 24-26 spaccato il Consiglio regionale fra maggioranza e opposizione. Il Consiglio regionale aggiorna le disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime con un atto approvato a larga maggioranza. Criteri di premialità ed eco indennizzo ma anche indicazioni omogenee e tempi rapidi. La Toscana va ad attualizzare la legge sulle concessioni balneari che in Regione tocca 34 comuni. Favorevoli PD, Italia Viva e Lega. Contrari 5 Stelle e Forza Italia. Astenuti Fratelli d'Italia e Gruppo Misto. La legge prevede da un lato la premialità cioè il favore per la partecipazione alle procedure comparative per il rilascio delle concessioni da parte delle micro, piccole e medie imprese turistico-ricettive operanti in ambito demaniale marittimo. Dall'altra introduce la previsione del riconoscimento di un eco indennizzo da corrispondere al concessionario uscente da parte del concessionario subentrante, contemperando il principio di tutela della concorrenza con quello della salvaguardia degli investimenti effettuati dalle imprese già concessionarie. Intanto l'apprezzamento per un'approvazione larga del Consiglio su una proposta di legge che innova la legge 31 del 2016 sulle concessioni demaniali ad uso turistico e ricreativo, più banalmente le concessioni per gli stabilimenti balneari toscani. Noi con quella legge fornimmo alle imprese e anche ai comuni un quadro giuridico di riferimento per il rilascio delle concessioni da 6 a 20 anni, inserendo alcuni principi innovativi come la tutela dell'ambiente, la proposta di progetti che alla richiesta di concessioni accompagnassero iniziative di interesse generale come la riqualificazione ambientale, la tutela della costa e della duna, progetti di salvamento collettivo o individuale anche sulle spiagge libere e introducemo anche il principio dell'ecoindennizzo, cioè che se nell'ambito della procedura competitiva, quindi di una gara, chi chiedeva la concessione, chi avesse chiesto la concessione avesse perso la procedura competitiva, questo dovesse essere indennizzato per una quota che all'epoca stimavamo nel 90% del valore aziendale dell'impresa, considerata nel suo complesso, quindi beni strumentali e anche l'avviamento, quindi il valore reddituale incluso, la valorizzazione che dell'impresa negli anni si era fatta, l'affidamento nei confronti ai clienti eccetera. Con questa legge reintroduciamo il concetto di equindennizzo che era stato all'epoca rimosso dalla Corte Costituzionale ma nel frattempo nel 2021 reintrodotto dal governo Draghi con una legge e forniamo alle imprese e soprattutto ai comuni toscani un riferimento normativo per la gestione di queste procedure di assegnazione delle concessioni. Sicuramente il tema dei balneari è un tema che alla Lega è sempre stato e starà sempre a cuore, crediamo che in questo momento in un vulnus nazionale la regione toscana abbia dato un'impronta politica che però va nella direzione di quello che è un confronto serrato anche a livello nazionale con le categorie e quindi che porta avanti il principio appunto di sviluppo e quindi di prima realità per quelle che sono le micro, piccole e medie imprese che in Toscana ce ne sono tantissime in tema di stabilimenti balneari e quello che è il principio appunto di equo indennizzo e quindi di valore imprenditoriale per tutte quelle imprese che si ripresenteranno nel futuro quando verranno fatti le assegnazioni degli stabilimenti e che non riceveranno purtroppo l'assegnazione dello stabilimento balneare. Riteniamo che questi due principi siano due principi saldi per garantire a tutte quelle famiglie che poi sono imprese però sono persone, sono famiglie che garantiscono il servizio dello stabilimento quindi il servizio della tutela ambientale, della sicurezza all'interno degli stabilimenti balneari e che garantiscono un turismo accessibile a tutti e che fa grande la Toscana nel mondo. Si è dato loro un principio di serenità e di tranquillità in questo momento di impasse che stiamo attraversando proprio sul tema della Bolkestein. Questa proposta di legge come quella del 2022 è inutile e anzi dannosa perché fa perdere ulteriormente tempo che dovrebbe essere impiegato dal governo nazionale per trovare una soluzione a un problema che si trascina dal 2006. Oggi di fatto la regione cerca di sostituirsi allo Stato in un'azione per supportare i comuni a detta della regione stessa ma in realtà in questo modo creerà soltanto i presupposti per un'impugnazione da parte del governo nazionale che in pratica girerà di nuovo all'indietro le lancette dell'orologio e porterà la scadenza del 31 dicembre ancora più vicina e senza una soluzione. Il problema delle concessioni balneari deve essere guardato in un'ottica più ampia, deve essere guardato all'interno anche di quella che sono la disponibilità della risorsa anche in una visione rispetto alle spiagge libere che sono drasticamente venute a calare e quindi offrendo meno disponibilità anche alle persone che non hanno la possibilità economica di accedere agli stabilimenti. C'è un problema della risorsa e anche ambientale, c'è un problema delle strutture sulla quale è uscita una sentenza recentemente che devono ritornare di proprietà dello Stato e soprattutto c'è il diritto della navigazione, una normativa sovranazionale europea che ci dice chiaramente che dobbiamo riportare le impostazioni a quella che piuttosto è seguita in Francia o in Spagna. Questi sono i problemi che devono essere affrontati, invece con questa con questa proposta di legge si è inteso probabilmente cercare di fare dei favori o cercare di risolvere in maniera abborracciata una situazione che secondo noi si va semplicemente di più a complicare. Riteniamo apprezzabile quanto proposto dalla Commissione con questo atto riguarda l'eco indennizzo che però non può riguardare solo esclusivamente il valore intrinseco del fatturato ma anche tutti gli investimenti che sono stati fatti durante il corso degli anni di gestione, compreso gli investimenti a salvaguardia del litorale. Bisogna considerare che molti bagni hanno ancora oggi una renire, hanno ancora oggi una spiaggia grazie al fatto che gli imprenditori che lo gestiscono hanno attraverso un percorso burocratico lungo e un intervento costosissimo posato scogliere a difesa appunto della spiaggia, cosa che a mio avviso ne andrà tenuto conto quando si andrà a parlare l'evo indennizzo. La legge 31 della regione Toscana ha già messo in sicurezza un numero importante di aziende, le aziende che si occupano di gestione delle spiagge in Toscana sono circa 900, 300 hanno aderito a questo principio di legge riguardo agli investimenti, cioè in base a tutta una serie di investimenti richiesti si ha la possibilità di vedersi rinnovata la concessione. C'è un principio di concorrenza che va in ogni caso salvaguardata perché qualora arrivassero in maniera massiccia multinazionali ad investire sulle nostre spiagge ritengo che questa verrebbe meno perché si chiederebbe un'omogeneizzazione dell'offerta, mentre oggi è possibile nell'arco di pochissime centinaia di metri passare da un ombrellone che costa 25 euro al giorno a ombrellone ne possono stare anche 200, 250 in base ai servizi che sono stati dati. Va contemplato a mio avviso anche un limite massimo dei bagni a cui si può partecipare alle aste da parte delle imprese straniere per evitare che ci sia come dire appunto una man bassa da parte delle multinazionali e anche a livello nazionale. Sul tema balneari il presidente del consiglio regionale Mazzeo rivendica la scelta dell'approvazione della legge regionale e lancia una stoccata al governo. Il governo non ha deciso perché è tra due fuochi. Da un lato la commissione europea che segnala il rischio di infrazione e dall'altra quello che ha messo in campo in campagna elettorale dicendo che avrebbe completamente permesso alle imprese balneari di poter continuare con le proprie concessioni. Ad ora non è riuscita a far nulla. Noi abbiamo realizzato oggi una, approvato oggi una norma che prevede l'equo indennizzo, cioè prevede di poter rimettere in concessione per un certo numero di anni tenendo conto che chi ha fatto investimenti, quegli investimenti gli devono essere riconosciuti. Penso che noi abbiamo fatto quello che potevamo fare il massimo possibile. Quindi il mio è un appello al governo, non si può continuare a tenere tante imprese in una condizione di non chiarezza. Noi la nostra parte l'abbiamo fatta, sappiamo che abbiamo fatto una norma molto forte anche rispetto al rapporto tra Stato e regioni ma l'immobilismo del governo ci ha portato a farlo. Il Consiglio regionale ha approvato l'assestamento di bilancio 24-26 con 22 voti favorevoli e 10 contrari. L'assestamento rende definitive le previsioni indicate in via presunta nel bilancio dell'esercizio in corso in relazione alle risultanze del rendiconto dell'esercizio precedente. In pratica da qui la rideterminazione dei valori della giacenza di cassa, quindi l'assestamento del disavanzo da debito autorizzato e non contratto nel 2023. Rideterminano ad un importo pari a 632 milioni di euro. La tenuta dei conti della regione toscana è un elemento importante, non nascondiamo le difficoltà, le criticità che sono emerse nel corso di questi anni però c'è un elemento di tenuta positivo che ci trova convintamente a sostegno di questa maggioranza, a sostegno del lavoro che viene svolto dalla giunta regionale. È evidente una differenza di punti di vista di vedute se pensiamo alla questione che riguarda le tasse e non solo da parte nostra un'attenzione massima a non gravare mai sui cittadini toscani rispetto all'equilibrio dei conti con la possibilità di andare a ricercare le risorse anche in altri settori. Quindi restano dei punti di differenza fondamentali ma nel contempo un elemento di convergenza importante che ci porta a votare convintamente il rendiconto di gestione e questo è un elemento che consolida la tenuta della maggioranza nel quanto riguarda la regione toscana. Noi come Lega sia in ufficio di presidenza attraverso la mia figura sia attraverso il voto in aula di tutto il gruppo siamo stati convintamente contro l'assertamento del bilancio di previsione 2024 e 2026. Non siamo stati per dare coerenza a quanto avevamo già votato e dichiarato nel mese di dicembre a proposito proprio del bilancio. Noi saremo per un consiglio regionale che si occupi di fare il consiglio regionale. Credo che sia terminato il momento delle celebrazioni dei premi. Credo che sia arrivato il momento di impostare diversamente il bilancio di renderlo asciutto per i soli funzionamenti dell'ente. Penso che l'epoca di Gianni Presidente del Consiglio sia ormai passata da un tempo e ci debba essere una assoluta discontinuità a riguardo. Noi vorremmo fin dall'inizio un fondo della Giunta a disposizione del Consiglio con un preciso accordo tra Giunta e Consiglio per fare le leggi che occorrono effettivamente ai toscani. Potrei citare semplicemente Maesoli che è una iniziativa del gruppo consigliare Lega. Abbiamo un serio problema come gruppi consigliari, quello di trovare le coperture finanziarie per le leggi. Se non cambiamo, se non rovesciamo il modello diventerà effettivamente un problema. Ci vuole anche la buona volontà della Giunta di mettere risorse a disposizione dei gruppi consigliari nell'interesse dei toscani. Quello che stavo detto dalla Corte dei Conti e da persone sicuramente che sanno leggere i numeri è emerso che ci sono delle incongruenze. Ora poi che il nostro Presidente della Regione e la maggioranza la faccia passare come dei bigliettini di auguri mi sembra veramente eccessivo. Non sono le cose con cui io mi gestisco meglio però quello che posso capire e che posso leggere è che comunque la Corte dei Conti evidenzia delle criticità che nella parificazione non vengono comunque tenute in conto e che lei ribadisce e che poi le nostre partecipate sono partecipate da cui potremmo ottenere qualche cosa di più. Non tanto come dividendi ma dando delle impronte perché comunque siamo soci importanti. È tutto da Cronache e Commenti, ci rivediamo la prossima puntata per andare a conoscere gli argomenti che vengono dibattuti nel Consiglio regionale. Il Consiglio regionale che nel mese di agosto farà una pausa riprenderà a metà settembre circa con le sedute dell'11 settembre. Grazie.